Buonasera a tutti, speriamo che le domande non siano tante perché vi vedo tanti. Allora io mi trovo in una situazione paradossale dal mio punto di vista che è quella di essere indagato e quindi accusato di partecipazione a una società segreta. La società segreta denominata P2 è un bellissimo titolo da riempire, molto pericolosa nella sua citazione perché ricorda la P2 e ricorda anche gli eventi negativi di quella P2. Mi riferisco al giudizio della magistratura finale, alla soluzione e alla disgrazia di molti capitati dentro, tipo importanti editori che si sono ritrovati senza niente, cito il caso del Corriere della Sera. Quindi è molto pericolosa per la democrazia, non da un punto di vista dell'indagine ma da un punto di vista generale, parlare di associazione segreta. Nella quale io non conosco nulla, non ho mai saputo nulla né della denominazione, non sono mai stato invitato a parteciparvi, non ne conosco le attività, non conosco alcunché, neanche le finalità. Però mi trovo invischiato in questa storia, piuttosto vasta, per alcuni aspetti, uno, perlomeno quello che mi è stato contestato, uno relativamente alla situazione delle Oli con Sardegna, l'altro ha un ragionamento su alcune candidature, in particolare quella della Campania e alcune questioni relative al giornale della Toscana, del quale sono anima editore di riferimento ma non proprietario per alcuni versamenti lì effettuati. Quindi mi trovo in una situazione paradossale perché io non conosco gli argomenti che ho detto, non conosco l'associazione, non è nemmeno stato richiesto, né tantomeno ne conoscevo le finalità e eventualmente le presunte finalità e diciamo lo svolgimento delle cose. Tutto questo parte da un pranzo che è stato svolto a casa mia nel settembre del 2009, pranzo che nelle intercettazioni, una piccola variante al tema, ci dovrebbe essere anche il segreto istruttorio, ma in questi mesi di segreto istruttorio non ho visto nulla, anzi ho visto girare le cosiddette pendrive nelle mani di tutti e quindi, come dire, anch'io ho letto quello che c'è scritto in queste famose pendrive, in queste famose pendrive c'è scritto come avviene, il vizio è di leggere parzialmente le cose, ma se uno legge tutte, come avviene questo pranzo, come viene organizzato? Come viene organizzato? E come si svolge? E chi erano i partecipanti? Per la prima volta in vita mia io incontro questo pranzo che era stato organizzato per un'eventuale candidatura del giudice Miller, poi sono arrivati in più di uno e in questo pranzo che si è svolto a casa si è parlato di questa candidatura, si è parlato come si parlava in quel momento anche dell'Odalfano senza mezzi termini né esitazioni e si è parlato di convegni che dovevano essere organizzati. I partecipanti a questo incontro una parte io non li conoscevo, mi riferisco a chi mi è stato presentato come giudice Martone, come giudice Lombardi, come giudice Miller, che infatti io volevo incontrare insieme al sottosegretario Caliendo, Carboni, Dell'Utri e Martino. Questa è la composizione di questo pranzo. Dalle intercettazioni si capisce bene come è avvenuto, si capisce bene che non erano tutti attesi a questo pranzo, che quindi non c'è un'organizzazione, perché se fosse un'organizzazione sarebbe sciagurata, in quanto che non organizzata. E da questo pranzo, dove io per la prima volta ho conosciuto questo Martino e questo Lombardi, oltre che gli altri, si dice che lì è stato concepito, generato tutto quello che è stato scritto. Questo pranzo il giudice Miller espresse con piacimento per essere chiamato a un'eventuale candidatura, ma disse anche che non ne aveva né voglia né idea, perché altre erano le sue aspirazioni. Di questi signori io non ho più rivisto nessuno, nessuno mi riferisco sia al giudice Miller che al giudice Martone, mentre ho rivisto un'altra volta Martino e Lombardi, sempre per una candidatura che riguardava il presidente industriale Lettieri. Questi signori sono campani, quindi hanno sostenuto, e si legge dagli atti, Cosentino, Lettieri, Sica, insomma una lunga serie di candidati. Per ricordarvi anche il mio lavoro, quello della selezione delle candidature, non è che sia una cosa esoterica, è il mio lavoro. E nei mesi antecedenti alle elezioni regionali io ho incontri, contatti su tutte le varie regioni, anche per fare degli istruttori, ne ho avuti tantissimi, ma non si parla di quelli, si parla di questi e questi parliamo. Quello che mi sembra strano è che un partecipante a un'associazione, dopo un pranzo di questa natura, dove si parla e si vuole incidere sull'Adalfano, io non sono stato mai più interpellato da nessuno, né personalmente né telefonicamente, e ce ne sono prova in tutte le intercettazioni che voi avete tra le mani, nessuno mi dice mai niente di come va questa eventuale conta o di queste tendenze, nessuno mi riporta mai, mi cita mai, nessuno dopo il fallimento eventuale della pressione sull'Adalfano dice ah, è andata male con me, più nessuno parla di questo argomento. Quindi mi sembra molto strano essere ricondotto per questa argomentazione alla famosa, ormai oggi famosa, P3. Questo ho spiegato ai magistrati, quindi non sono mai stato interpellato, non era conoscenza, non mi è stato mai chiesto niente, non so di che parlassero, non so qual è la loro finalità, ma siccome a questo pranzo si dice che si sia parlato in maniera scorretta dell'Adalfano, anche se quei giorni era oggetto di tutte le discussioni in tutti i pranzi, in tutti i salotti, su tutti i giornali d'Italia, quella specie di specchietto che mi ha riportato su, giù, la provenienza, i giudici costituzionali, come avrebbero votato su quell'Odo. Ma nessuno poi mi parla, nei giorni successivi e anche dopo la bocciatura del lodo, di risultati, di tentativi, sta negli atti, quindi io sostengo ciò che sta negli atti. E questo per quanto riguarda la P3 per me è chiusa qui, anche se mi rendo conto, come ho detto prima, che ho un grande titolo che va riempito e che quindi occorre dargli, come dire, un contenuto su una roba, a mio giudizio, inesistente e pericolosissima per la democrazia, non nel senso inteso che si cerca di dargli in questi giorni, ma per il fatto che se, di quello che è accaduto con la P2, delle ingiuste questioni che sono state perpetrate per anni e per le sentenze della magistratura che poi hanno fatto chiarizza su questo argomento. Lo vorrei ricordare, visto che parlo a persone esperte. E questo è il primo punto. Il secondo punto, che vorrei chiarire immediatamente e velocissimamente, è quello della candidatura oggi del Presidente della Campania Caldoro. Una questione che si è svolta in maniera molto trasparente, che qui pare invece non esserlo, di un foglio come questo, dattilo scritto, con scritto degli indirizzi, dei nomi, eccetera, che ha pervenuto in via anonima al partito e cestinato al partito velocissimamente dopo alcune telefonate, fra le quali una, Cosentino, che viene ricordata, il quale tese a dire che erano chiacchiere, che erano robe di nessun conto. Scusa? Sì, robe di nessun conto, chiacchiere vecchie, eccetera. Questa questione è tornata di moda dopo che il partito aveva deciso di indicare Caldoro quale Presidente e lo fece in una conferenza stampa e in una riunione a Napoli con tutto il partito, con il coordinatore regionale, il vice, tutti i deputati e senatori, indicando al nazionale la candidatura di Caldoro, perché era nel frattempo avvenuto tutto quello che sapete sulla questione Cosentino e quindi anche per volontà, diciamo, dei campani siamo andati sulla candidatura proposta di Caldoro con tanto di conferenza stampa. Dopo quei giorni arriva un'altra, lo stesso volantino più completo che viene consegnato da Sica, sta negli atti, lo sta, l'ha dichiarato, il quale aveva la voglia di fare il candidato alla Presidenza della Giunta regionale senza nessun termine e questo volantino e prendo il vanto da parte mia del Presidente Berlusconi perché abbiamo parlato e abbiamo deciso di portare io l'ho fatto personalmente questo volantino a Caldoro parlare con lui dirgli che cosa stava accadendo e chiedergli come stavano le cose. Caldoro con molta semplicità disse che erano tutte balle che si sentiva anche offeso che era una cosa e sul suo onore disse che non era vero niente e qui finì la questione. Tutto il resto io non so nulla e sono, come dire, cose di non secondo piano ma per quanto mi riguarda nulle inesistenti perché questo è stato il comportamento del PDL del Presidente Berlusconi mio e degli altri dirigenti rispetto alle questioni dell'anonimato che vanno di moda quando uno ha qualche ambizione oppure c'è anche qualche problema la produzione anonima è una roba come dire che sovrabbonda così ci siamo comportati e ne rivendico con orgoglio diciamo la liquidazione di questo eventuale tentativo diffamatorio che non riguarda né la dirigenza del PDL né il PDL medesimo a tutela dell'amico Caldoro che tutti quanti poi abbiamo sostenuto lealmente e correttamente nella campagna elettorale con il successo che voi avete visto la terza questione che è più complicata perché si intreccia perché viene anche mistificata e quindi in realtà è semplice come ho detto io sono l'anima del giornale della Toscana e come tutti i giornali ha sempre eterne difficoltà quindi ci sono state diverse operazioni di finanziamento ma io su questa intenderei siccome parla a voi ma questa conferenza stampa la faccio per me per la mia famiglia per mia moglie per i miei figli e per gli amici che sono stato zitto che devono sapere la verità quando si parla di soldi non occorre scomodare né Marconi né Galileo né Einstein le cose sono molto semplici si parla di soldi io parlo in maniera semplice per farvi capire scopi c'è una tasca sola in questa tasca si mettono e si levano e poi si va a vedere quanto ne rimane per quanto riguarda me nelle mie tasche ci sono i debiti relativamente alla questione del giornale perché sono i soldi che ho messo di gran lunga superiori a tutti quelli che si parla cioè qui si parla di danari di entità di numeri i soldi che ho messo nel giornale della Toscana sono largamente superiori a tutti i soldi che si parla qui largamente superiori significa più del doppio più del triplo di qualunque cifra voi abbiate in testa relativamente a quello che ho letto gravissime imprecisioni gravissime questioni non mi importa chi lo dice è molto semplice ripeto non ci vuole non si deve scomodare nessuno scienziato per sapere se uno mette in tasca 100 lire o se le leva ecco io me le sono levate per il sostegno del giornale della Toscana questo mi sembra molto semplice in questa nonostante che me li sia levati ho cercato sempre di aiuti e mi fa specie che si parli dei giornali come di un'impresa economica nella quale gli imprenditori o chiunque metta i soldi per guadagnare io sfido voi che siete tutti addetti ai lavori di rivolgersi ai propri editori per sapere se uno mette i soldi dentro un giornale e alla fine dell'anno ne prende come dire un utile da questa operazione oppure se gli editori mettono dentro i soldi ai giornali facendo un ragionamento economico cioè di quanto vale come si farebbe con un'azienda comune queste domande andrebbero rivolti a chi ha messo i soldi all'unità che sono tanti a tanti altri giornali di cui potrei fare i nomi perché le cose sono pubbliche non sono nascoste sono trasparenti e non si capisce perché se ci si ponga queste domande del perché qualcuno mette dei soldi in dei giornali che sono in perdita chiedo equità che si faccia a tutti la stessa domanda che mi sembra come dire un fatto normale per capire perché se no non si comprende se no sembra che Verdini sia il folle e gli altri siano gli intelligenti io penso che tutti quelli interpellati da voi che hanno messo i soldi nei giornali diranno la stessa cosa che dico io ci si perde punto e non vi diranno una ragione economica di aver messo 100 lire per avere alla fine dell'anno una percentuale di reddito e vi diranno anche che chi mette i soldi sa che sono a rischio e che si possono perdere quindi chiedo come dire equità di comportamento di valutazione perché non è che si debba giudicare una volta in questa inchiesta e qui lo voglio dire si giudica spesso con due pensi e due misure e quindi vorrei chiarire questo aspetto detto questo avendo i giornali sempre bisogno di danaro io ho fatto un'operazione anzi io ho fatto è sbagliato io ho procurato una operazione che prevedeva un aumento di capitale per 2 milioni e 600 mila euro di cui sono stati versati solo per l'ultima volta è solo ed esclusivamente 800 mila euro in più rate che sono i soldi a cui si fa riferimento da due signori comunque riferibili a Fabio Carboni quindi per celerità sono stati versati regolarmente versati con assegni circolari su un contratto su una perizia comunque al di là delle discussioni e tutto e si innesta una serie di confusioni per descrizioni tecniche che ricordano una scrittura del 2004 sulla quale si è imbastito un ragionamento che non finisce più pronto a rispondere alle domande come risposta ai magistrati ho chiarito a loro che manderò una relazione tecnica con tutti i documenti ma la cui sostanza è che io non ho toccato un soldo personalmente e che in tutta questa vicenda del giornale lo ridico un'altra volta per essere chiaro ce ne ho rimessi tantissimi miei e della mia famiglia e questo è l'ultimo episodio del quale sono come dire indagato insieme all'eolico che viene collocato perché questo imprenditore Carboni aveva un intendimento di fare un investimento sul campo dell'eolico tanto per chiarirsi io non so nonostante che vada di moda come la Green Economy queste cose che sia sostenuta anche da incentivi che lo Stato e gli Stati danno su questo elemento nella Isola del Vento fra l'altro si presta bene io non so nulla non ne capisco nulla assolutamente nulla non è la mia materia mentre sui bilanci potrei qui sostenere una discussione con chiunque su questa roba io non so di che cosa si parla il che non esclude come è successo che io abbia cercato di mettere in contatto il Presidente della Regione Sarda eletto da poco Cappellacci con Carboni il che non significa che avendo sostenuto la nomina di Faris che io non conoscevo affatto e che ha degli aspetti di carattere generale come molte altre nomine io non lo conoscevo e che fosse un rapporto precedente anche qui vorrei lo stesso peso e la stessa misura mi risulta che ci sia stato un pranzo nel 2008 tra Carboni Dell'Utri e qui mi fermo un attimo perché oggi ho letto sui giornali che avrei scaricato Dell'Utri per me Dell'Utri è un amico fraterno una persona per bene io non ho scaricato proprio nessuno ho solo raccontato a magistrati non so che cosa ci abbiano letto nel mio racconto come sono andati i fatti e per scaricare qualcuno bisogna che ci sia qualche cosa siccome non c'è niente da scaricare non c'è niente da attribuire perché non ci sono responsabilità non capisco questo inciso lo voglio fare in onore della mia amicizia e del fatto che probabilmente qui ci sono dei fraintesi senza uguali lo chiudo qua io non ho scaricato mai Dell'Utri perché nulla c'è da scaricare e sto raccontando che non avendo nulla che spartire con nulla di queste storie che cosa devo scaricare non lo so e l'amicizia certamente non intendo scaricarla né ora né nell'interrogatorio né mai perché è una questione che esula da questa storia punto tornando a prima non capisco perché un pranzo che agli atti in quelle famose pennette che voi avete fra Dell'Utri Carboni e Cappellacci fatto con il principe Caracciolo debba essere valutato differentemente da un pranzo che viene fatto con me c'è qualcosa che è di distorto in questo e di pericoloso per la democrazia al quale vi richiamo c'è qualcosa che usando doppi pesi e doppi misure si sbaglia sto parlando di quando è stato detto più volte della inopportunità dei rapporti o delle ragioni dei rapporti spiegatemi questa e se mi spiegate questa allora io posso dare spiegazioni sulla mia inopportunità sulla sconvenienza questo doppio pesi e doppia misura è pericoloso è veramente pericoloso tornando all'argomento ho fatto ho cercato di metterli in contatto la trasparenza sta nei fatti che quando uno cerca di mettere in contatto io non ho chiesto nulla non ho ordinato nulla ho solo messo in contatto due persone uno con una finalità l'altro con il potere di farlo ma c'è un piccolo problema stiamo parlando di un argomento sul quale non è successo nulla perché in tutto l'anno 2009 fino a primavera del 2010 la regione Sarda non ha dato un'autorizzazione in tal senso quindi parliamo di che cosa parliamo di una cosa che non è accaduta che non c'è che non c'è stata ma che poteva accadere nell'ambito di un imprenditore e ho detto che non posso accettare posso accettare se uno dice io non l'avrei fatto non ci sarei andato sono opinioni personali che rispetto anzi rispetto l'opinione dei cittadini e degli elettori che eventualmente abbiano questa cosa non la rispetto di chi strumentalmente ritiene che il mio sia una cosa criminale e che l'altro che ho ricordato sia una cosa fatta bene quindi se è inopportuno è inopportuno sempre e comunque ho detto questo e senza polemica ritorno all'argomento io non ho chiesto nulla non ho fatto niente ho soltanto come dire come si fa spessissimo in politica messo in contatto un imprenditore con chi poteva poteva procedere alla realizzazione di un progetto industriale peraltro non posso negare che il presidente Cappellacci è sempre stato come dire riottoso contrario non disponibile perché aveva idee diverse che poi ha attuato attraverso procedimenti giuridici questi sono i dati essenziali del mio interrogatorio di ciò che io ho detto durante l'interrogatorio e parlando con voi ho sottolineato e lo ripeto così poi passo ad ascoltare primo associazione segreta che non so che non conosco alla quale non è mai stato chiesto di partecipare né tantomeno sapessi dell'esistenza e quindi delle finalità questo è il primo punto ho cercato di dare prova attraverso ciò che voi avete in mano che è strano che se uno partecipa non gli si dice mai i risultati non lo si contatta più non gli si racconta dei successi o dei fallimenti come strano è che partecipante a questa associazione su una materia su una materia non sullo Dalfano del quale ho detto ma su una materia della quale io mi dovrei interessare da un punto di vista istituzionale cioè la esclusione la riammissione di liste come quella che è accaduto in Lombardia col presidente Formigoni e nel Lazio con la lista Polverini che dice che questa associazione trattava io non ne sappia nulla nessuno si rivolge a me nessuno mi spiede e mi chiede e in quei giorni mi posso assicurare che qui al partito con tutti i dirigenti ci abbiamo passato giornate e nottate su questo argomento quindi di questi nessuno parla con me è un bel partecipare a una società segreta talmente segreta che non se ne parla di un argomento mio proprio questa volta mio proprio secondo tengo a sottolineare che gli aspetti economici che li ho sintetizzati e gli ribadisco io soldi in tasca non li ho messi ma li ho messi dei miei della mia famiglia quindi non ho da rispondere nulla lo dico a voce alta pubblicamente sul mio onore nel rispetto della mia onorabilità della mia persona del partito che rappresento e della mia famiglia e su questo come dire sono fermo ferreo la verità che dico qui è la verità assoluta dei fatti poi ci può essere tutte le letture del mondo ma su questo si può leggere si può girare se uno i soldi ce li mette è tanto semplice capire che non li prende e ho già spiegato che l'entità dei numeri di cui si parla al di là dell'interpretazione che non esiste è largamente inferiore a quelli che io ho messo all'interno del giornale poi le letture si possono dare come vogliono su Cosentino mi sembra avere detto questi sono gli argomenti sui quali io sono stato interrogato sui quali oggi ho visto sui giornali le varie interpretazioni e le varie questioni di Dell'Utre ho detto non li dico io non ho rinegato scaricato nessuno perché l'amicizia non si scarica e altre questioni non ci sono io mi fermo qua ah un piccolo inciso vorrei fare così come ho detto che i doppi pensi e le doppie misure non vanno bene penso anche che questo si possa riferire alla politica perché in questi giorni sono stati investiti da richieste di dimissioni in nome e per conto di una presunta legalità anche in questo caso chi avanza richieste di presunta legalità dovrebbe essere come dire ineccepibile trasparente lindo non accetto certo dall'onorevole Bocchino nulla di quello che dice perché ricordo a lui che il PDL si è stretto intorno a lui in occasione di un'inchiesta che lo riguardava anche pesante con una richiesta d'arresto fermata dal Pgip che richiedeva l'autorizzazione alle intercettazioni anche se lui dice dice che quando si leggeranno quando si leggeranno è perché si attarda basta rivolgersi a voi ce l'avete tutte quindi si attarda perché sono lì sono trasparenti non c'è problema io non ho nessun problema a leggerle sono faticose sono noiose e come tutte le intercettazioni e ne ricordo una bellissima di intercettazioni che non mi riguarda per dire anche la consistenza di questa P3 una conversazione fra il sedicente giudice Lombardi e l'effettivo primo presidente della Cassazione sono due paesani che parlano fra sé e che uno porta un dono all'altro l'olio che è una cosa che noi toscani mi avessete preparato a me gli dicevo doppio perché noi toscani siamo innamorati dell'olio quindi ho detto benvenga a portarmi l'olio ma di questo si tratta nelle intercettazioni questa è un'intercettazione fra il sedicente Lombardi e il presidente della Repubblica dei magistrati perché il primo presidente della Cassazione insomma Carvoni mi pare di parlare e parlano in una maniera paesana in una maniera semplice in una maniera come dire fra due amici si portano l'olio ora è bello si può anche dire l'olio serve per friggere serve anche per ungere ma per evare a questo ci vuole della malizia ci vuole della cattiveria e ci vuole a mio giudizio della strumentalità politica quindi a bocchino non permetto di entrare su questa cosa mi dispiace che il presidente della Camera in forma generica non abbia tutelato un suo membro come me perché durante un interrogatorio durato nove ore non era un interrogatorio i giudici sono stati nei miei confronti corretti io ho risposto alle domande una parte è stata dedicata all'interrogatorio una lunga parte alla trascrizione qui voglio dire poi chi va a lavorare solitamente le sue nove ore se le fa per cui io ho fatto un giorno di lavoro diverso non è così drammatica questa storia è brutto però che il tutore delle Camere la terza carica dello Stato mentre un rappresentante delle Camere sta a fare questo lavoro ne chieda le dimissioni direttamente o indirettamente e anche a lui dico insomma oggi ho visto sui giornali delle cose equivoche come se io qui mi mettesse a chiedere roba su questo io ritengo che lui sia come me uno del quale si possa parlare ma gli si deve dare anche la possibilità come dire di rispondere e di aspettare gli esiti delle questioni la stessa cosa vale perché io chiedo sempre lo stesso penso la stessa misura la stessa cosa vale per il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura persona ineccepibile presidente del senato ex presidente del senato uomo che conosce la politica certamente non uno sprovveduto come Verdini non uno sprovveduto come Verdini un uomo accorto visto come parla preciso io sono un po' becero e me ne frego voi invece il punto puntuale preciso al quale il sedicente Lombardi si rivolge ci chiacchiera io sono convinto che il presidente Mancino abbia votato Marra in assoluta buona fede che l'ha fatto perché ci credeva non lo dico ironicamente ne sono veramente convinto di questo passaggio ma a lui si concede questo e a me si no è questa cosa insomma non è tanto bella attenzione a voi alla democrazia usando questi doppi concetti il rischio è la democrazia non perché c'è la P3 che è un'invenzione e lo sarà dimostrato e che farà solo danni come ha fatto per la P2 ve l'ho già detto attenzione attenzione la democrazia è anche nelle vostre mani e nella riflessione che fa ma insomma doppi pesi non vanno bene ma quello che mi meraviglia è che tutti stanno zitti è che pur rispettando e sapendo che il presidente Mancino ha votato in buona fede l'avrebbe fatto comunque ma lo si chiama a fare anche l'epuratore degli altri cioè questo mi sembra in effetti un po' eccessivo insomma tanto dovrebbe cambiare il CSM si potrebbe avere anche il riguardo ma la fretta di riempire questo titolone P3 porta a fare atti e lo dico con umiltà porta a fare atti e chiacchiere che fanno solo danni alla gente senza esserne sicuri questa precipitazione non è utile alla democrazia ci vuole la riflessione ci vuole la pacatezza ora sarà stato in buona fede gli crediamo ma che sia anche quello che spinge per le punizioni e per le purazioni sinceramente a me sembra troppo e anche il silenzio che si fa intorno a questo mi sembra altrettanto troppo invece si sottolinea tutte le robe del Verdini e vabbè io sono qua sono a rispondere vorrei dire anche tante altre cose ma preferisco come dire terminare qua e se voi avete la pazienza rispondo grazie a tutti grazie a tutti